Salve, vi do il più o più coloroso benvenuto dalla nuova sede della Camera di Commercio e a tal proposito vi anticipo che a breve riceverete delle informazioni relative all'inaugurazione che faremo. Quindi cosa posso dire del planning 2020? Non vi voglio annoiare o dilungarvi perché i video dei miei colleghi spiegheranno meglio, diviso reparto, quel che sarà nel 2020. Quello che vi posso dire con certezza è che la Camera di Commercio è davvero cresciuta moltissimo negli ultimi anni e per il 2020 vogliamo continuare a farlo. Quindi vi chiedo un aiuto in tal senso. Abbiamo proposto diverse cose, diversi seminari, eventi, sempre pensati per darvi massima utilità nel vostro fare business in Ungheria. Quindi vi voglio ringraziare per seguirci, del vostro supporto, continuate a farlo perché solo insieme è più bello crescere, insieme per crescere. Grazie prestissimo! Grazie a tutti!